Da un anno e mezzo senza stipendio, i 22 formatori del CNOS, il centro di formazione professionale dei salesiani di Ragusa, che hanno dato vita a un presidio dinanzi alla chiesa Maria Ausiliatrice, accanto allo stato di Don Bosco. 18 mesi senza stipendio, non erogati, in quanto la regione non paga da troppo tempo i corsi che pure i formatori portano avanti quotidianamente. E dopo aver protestato con i ragazzi dinanzi al Comune e all'Ufficio del Lavoro per chiedere che i corsi dell'obbligo formativo non vengono cancellati, adesso la protesta riguarda in modo particolare il loro diritto ad avere uno stipendio. Noi abbiamo sposato il progetto di Don Bosco, io sono un ex allievo, prima ho studiato dove ci sono i banchi e le aule dei miei allievi. ho fatto un'esperienza di 10 anni fuori dall'istituto, poi sono stato richiamato e ora proprio quest'anno compio 30 anni che lavoro presso questo istituto. Sono ritornato qua perché credo nel progetto di Don Bosco, ci ho creduto sempre e anche questi 18 mesi di non prendere lo stipendio fanno capire che ci credo perché amo i ragazzi e il lavoro che faccio. Ho speso la mia vita in questo settore e spero di terminare sempre accanto ai ragazzi. I ragazzi che cosa rivendicano? I ragazzi rivendicano prima di tutto di essere assistiti e poi è da anni che non ricevono più la loro borsa di studio, devono anticipare il costo del biglietto che abbiamo parecchi ragazzi che vengono da tutta la provincia. Diciamo che siamo l'unica scuola professionale specialmente per la meccanica e anche per il settore elettrico dove formiamo i nostri ragazzi per andare subito al lavoro e tutte le ditte della provincia hanno nostri ex allievi e questo è un nostro grande contributo che abbiamo dato alla provincia e che i salesiani continuano a dare a tutta la provincia. Abbiamo un corso triennale che abbraccia un po' tutti i vari settori dell'elettrotecnica, quindi dall'impiantistica civile tradizionale, ma ci siamo specializzati al terzo anno anche al campo della domotica e dell'automazione industriale. I nostri ragazzi ci tengo a dire che sono ricercati dalle aziende perché portano una professionalità che altrove non potrebbero trovare e poi se questi giorni sono stati efficaci lo sapremo in futuro. Noi sicuramente vogliamo esserci e vogliamo dire la nostra, vogliamo difendere i nostri diritti e quelli dei ragazzi che sono quelli di cominciare a settembre come tutti gli altri ragazzi delle altre scuole e per noi ovviamente di ricevere lo stipendio per questa che noi consideriamo una missione, quella di formare e di educare i ragazzi al lavoro e a vivere da buoni cristiani e da onesti cittadini come voleva Don Bosco che ha fondato queste scuole. Ma ci dico un'ultima cosa, c'è qualcosa in particolare di queste giornate di manifestazione che voi avete organizzato in città che si è lasciato un segno nella cittadinanza e che tipo di riscontro avete avuto dalla cittadinanza che vi ha seguito in questi giorni anche grazie alle nostre televisioni, grazie anche ai giornali e tutti gli altri direttori di tv private che ci hanno seguito? Il riscontro è stato sicuramente positivo e abbiamo ricevuto messaggi di sostegno anche la presenza di tanti nostri amici ma anche con cittadini che si sono sentiti solidali con noi. Il nostro obiettivo è quello di far sapere alla cittadinanza che svolgiamo un ruolo sociale, oltre che didattico per i nostri ragazzi svolgiamo un ruolo sociale perché il target dei nostri ragazzi è un target che andrebbe altrimenti disperso, non andrebbero a frequentare le altre scuole, quindi è importante quest'azione di recupero e di reintegro nel mondo del lavoro che operiamo con questi ragazzi. Il nostro obiettivo ovviamente è quello di sensibilizzare le istituzioni regionali, quindi cercando di organizzare anche una manifestazione unitaria a Palermo con i colleghi degli altri centri della Sicilia che anche loro in questi giorni stanno facendo azioni di protesta a livello locale. La vostra scuola perché fa anche questo tipo di servizio sociale, cioè di lotta alla dispersione scolastica? Ce lo spieghi meglio? Sì certo, i nostri ragazzi sono ragazzi che hanno come talento primario quello del saper fare e non quello di studiare sui libri, d'altronde siamo tutti diversi, non possiamo essere tutti uguali, i nostri ragazzi non sono ragazzi che andrebbero mai a studiare al liceo o all'istituto ragioneria o all'istituto per geometra o all'istituto tecnico. I nostri ragazzi chiedono di poter imparare un mestiere e per andarlo a esercitare da subito. Infatti noi puntiamo e organizziamo i nostri corsi proprio per dare questa forte manualità, questa forte preparazione manuale ai ragazzi e poi tramite gli stagi formativi che i nostri ragazzi fanno per ben tre anni riusciamo a inserirli nelle aziende con risultati più che positivi perché abbiamo quasi il cento per cento dei ragazzi impiegati nelle aziende. E le materie invece teoriche, quale sono le materie teoriche? Brevemente ce li potrebbe elencare? Sì, le materie teoriche sono in generale quelle che si fanno anche negli altri istituti, quindi studiano l'italiano, l'educazione civica, la storia, la matematica, la scienza e l'inglese, ma tutte queste materie sono comunque calate e adattate e funzionali alla parte pratica, quindi inglese e tecnico. Ci sono pure materie professionali? Assolutamente sì, l'elettrotecnica, la fisica, la chimica. Ringraziamo per averci ancora una volta ascoltato le nostre dimostranze. Una buona serata a tutti, noi continuiamo il sit-in anche durante la notte, a domani mattina per un'altra giornata di lotta. Grazie a tutti.